In questa parte voglio parlarvi di analisi fondamentale e di trading con le notizie e i rumors, oltre all'importanza dei volumi. Mi sono resa conto che durante il corso abbiamo parlato di risorse disponibili, di informazioni finanziarie, di dove andarle a reperire, di quanto sono importanti, ma non abbiamo mai dato una definizione reale e chiara di quella che è effettivamente l'analisi fondamentale. E in che cosa consiste? Allora, l'analisi fondamentale è lo studio dei dati economici e finanziari di un'azienda. Attraverso l'analisi del valore, dei multipli, dei ratio patrimoniali, dei fattori di solvibilità e dei principali indicatori di riferimento, tra cui ricavi, margini operativi lordi, utili e dividendi, è possibile valutare la salute dell'impresa. E tramite i modelli di valutazione dell'equity, analizzare se il prezzo di mercato è sovra o sottostimato. Perché ho voluto darvi una definizione di quello che è l'analisi fondamentale? Perché l'analisi fondamentale è complicata. Per comprendere l'analisi fondamentale dovete conoscere e comprendere l'analisi di bilancio, l'analisi del conto economico, l'analisi del cash flow e i principali indicatori di solvibilità, di ratio patrimoniali, sicuramente è un processo di apprendimento molto più complicato rispetto a quello dell'analisi grafica e dell'analisi tecnica. Poi volevo fare un'altra osservazione con voi. L'analisi fondamentale implica orizzonti temporali estremamente più lunghi. Cioè nel momento in cui voi volete fare una qualunque tipo di investimento, perché non si parla più di trading, ma di investimento con l'analisi fondamentale, dovete pensare che starete a mercato diverso tempo, addirittura dei mesi. E non sempre si è disposti a restare a mercato così a lungo. Quindi se decidete di fare analisi fondamentale, cercate di comprendere che si tratta più di investimenti che di trading. Nel trading si parla di trading di tipo intraday e di tipo multiday, ma quando si parla anche di multiday si parla di un multiday di breve periodo, che non supera mai una o due settimane, soprattutto quando si fa analisi tecnica. L'analisi tecnica rispetto all'analisi fondamentale, invece, può essere applicata a tutti i tipi di time frame. Quindi sia che voi siate degli trader, degli scalper, oppure degli investitori di medio-lungo termine, l'analisi tecnica e l'analisi grafica sarà sempre valida e potrete sempre utilizzarla. Quindi considerate l'importanza dell'analisi tecnica e considerate anche che tipo di trader volete essere. Vi ho dato quelle che sono le linee di massima per poter fare una valutazione. Però considerate sempre che se volete essere dei trader, dal punto di vista sia che dei trader di tipo professionale, sia di tipo di trader di tipo più occasionale, fate delle valutazioni sul tipo di strategia che volete adottare a monte. Quindi, prima di scendere sulle strategie di trading, valutate se siete delle persone o comunque dei investitori che avete più propensione ad un'analisi dei dati, dei indicatori e di ratio patrimoniali, o se avete più invece desiderio e praticità nell'apprendere quelle che sono le tecniche di trading dal punto di vista tecnico e grafico. Detto questo, andiamo avanti e andiamo a comprendere invece l'importanza dei volumi, dei market mover, delle notizie e dei rumors. Per quanto riguarda l'importanza dei volumi, questo è strettamente associato a tutto quello che riguarda il mondo azionario, perché esistono moltissime strategie che si basano sul volume. In questo corso non ne abbiamo affrontate. Non le abbiamo affrontate perché abbiamo affrontato molte tecniche, strategie basate sugli indicatori, sulla price action. Abbiamo individuato molte strategie operative che possono essere applicate alle azioni, ma anche a diverse altre tipologie di strumenti. Considerate inoltre che i CFD, di cui abbiamo parlato a lungo, non possiedono volumi, ma è importante comunque considerare gli scambi del sottostante. Quindi l'importanza dei volumi e soprattutto per quanto riguarda lo scambio delle azioni. Se decidete di lavorare sui CFD, che non possiedono volumi, considerate comunque il volume delle azioni sottostanti. Parliamo invece adesso di market mover, notizie e i rumors. In questo caso non mi sono voluta soffermare troppo né sull'analisi fondamentale né sull'importanza dei volumi, in quanto il primo non è oggetto del corso di oggi, ma potremo fare anche un approfondimento in futuro per chi fosse interessato. Per quanto riguarda l'importanza dei volumi, abbiamo considerato molto il trading con i CFD, ma anche con le azioni, ma non abbiamo approfondito tecniche con i volumi, perché queste sono anche delle tecniche un pochettino più avanzate. Quindi se faremo un corso di analisi tecnica, andremo sicuramente a valutare anche delle strategie con i volumi, e quindi potrete apprezzare anche l'importanza dei volumi direttamente applicate alle strategie operative. Per quanto riguarda invece i market mover, le notizie e i rumors, esiste anche una tipologia di trading che si basa proprio su questo. Anche queste non sono un argomento di questo corso, ma comunque bisogna tenerle in considerazione, prima di prendere una posizione su un titolo, perché sappiamo benissimo che sono dei market mover, sia le notizie che i rumors. Quindi una notizia o un comunicato stampa potrebbe influenzare l'andamento del titolo. Sappiamo anche che quando ci sono dei market mover importanti, è meglio restare fuori dal mercato. Tutta questa parte, ad esempio, legata alle strategie sulle notizie e sui rumors, e quindi ad esempio strategie basate sulla volatilità, anche queste sono strategie che affronteremo in un corso di analisi tecnica, e quindi in un corso più approfondito. Per il momento sappiate che esistono, che sono utilizzate, soprattutto il trading sulle notizie è utilizzato da trader, soprattutto della vecchia guardia, che lavorano molto su quello che è il trading sul book, per quanto riguarda il mercato azionario, ma considerate che esiste comunque sempre una certa importanza per quanto riguarda tutte le strategie di trading applicate sia alle notizie che ai comunicati, che ai market mover, che ai rumors. Dopo aver quindi adesso visto quello che riguarda sia l'analisi fondamentale, l'importanza dei volumi, i market mover, le notizie e i rumors, diciamo che possiamo chiudere questo modulo dedicato alle tecniche di trading e passare all'ultimo modulo dedicato ai FANG.